salve a tutti amici e amiche nel video di oggi parleremo di alcune novità che riguardano il mondo dell'aviazione qualche aggiornamento sul fronte dell'ucraina ed europeo in generale e soprattutto di importanti novità per i piloti imbarcati nella marina degli stati uniti come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale grazie a voi ho superato da poco i 5.000 iscritti il prossimo traguardo dei 10.000 ora non è così lontano e questo dipende solo da voi mi raccomando lasciate anche un mi piace a questo video perché è fondamentale per renderlo più visibile nelle pagine di ricerca e così aiutarmi a crescere quindi apriamo la carrellata di notizia con un fatto non poco importante che riguarda la svezia venerdì 14 giugno i cacci a svedesi sono decollati su scramble per intercettare un ricognitore russo che ha violato apertamente lo spazio aereo nato tutto questo avveniva a poche ore dal g7 e dalla conferenza di pace in svizzera un su 24 russo specializzato in ricognizioni elettroniche e fotografiche è stato intercettato dai j39 griffen svedesi sopra gotland nel mar baltico in violazione dello spazio aereo svedese l'aviazione svedese ha chiamato via radio il pilota russo ma questo non ha deviato dal suo percorso a quel punto due caccia griffen lo hanno intercettato e lo hanno forzato a lasciare l'aria e questo è quanto è stato riportato dall'aviazione svedese a seguito di questa violazione il ministro degli esseri svedesi tobias bilstrom ha espresso una dura critica all'ambasciata russa affermando che questo comportamento fosse inaccettabile l'ambasciata russa ha ignorato inizialmente l'accaduto il capo dell'aeronautica svedese ha affermato che questa violazione dello spazio aereo ha mostrato una mancanza di rispetto per l'integrità territoriale della svezia e ha lasciato intendere che il pilota russo non rispondendo le chiamate ha rischiato di essere abbattuto questo evento fra l'altro è avvenuto mentre non erano in corso esercitazioni navali nato proprio nel mar baltico sotto gli occhi di tutti la svezia ha affermato che violazioni simili del loro spazio aereo non si verificavano dal 2022 e che è evidente che questa è stata una provocazione la finlandia fra le altre cose venerdì ha dichiarato separatamente che altri quattro aerei militari russi hanno violato il loro spazio aereo il 10 giugno quindi questa è la situazione non buona nel nord est dell'europa con l'aviazione russa che sta tirando troppo la corda per restare sempre in tema di aviazione in questi due giorni ci sono stati attacchi aerei da parte dell'aviazione ucraina nella zona di lipsi a nord di questa verso i volche dove una massiccia offensiva russa è stata respinta gli ucraini stanno utilizzando bombe plananti a guida gps j dam di fabbricazione americana le lanciano dai loro mig 29 per demolire interi edifici residenziali che da tempo vengono utilizzati dall'esercito russo e conducono anche attacchi di artiglieria e droni con cui hanno disabilitato le difese aeree nell'area nord e nord est di quest'area che vi sto mostrando permettendo così ai loro due mi 24 di lanciare salve di razzi sulle posizioni russe come ho accennato nel precedente video in questo settore gli ucraini stanno efficacemente con efficacemente contrastando l'azione russa per quella che ormai sembra un'offensiva nella regione di kharkiv e le immagini che vengono dal fronte che non vi posso mostrare per le regole di youtube sono piuttosto esplicite si vedono infatti molti mezzi ed edifici in fiamme e soldati russi in ritirata anche da parte russa si registrano diversi attacchi aerei in quest'area specialmente per cercare di impedire agli ucraini di tagliare ulteriormente la linea di rinforzi russa a voi chask e chiuderli ancora di più in una sacca come molti di voi avranno saputo c'è stato un attacco con droni alla raffineria di azov che ha causato un incendio ci sono le immagini che circolano in rete per fortuna non ci sono state vittime invece notizia più fresca il porto di kharkaz è stato colpito ci sono immagini degli incendi che hanno richiesto molte ore per essere domati altra notizia sono in arrivo forniture consistenti di missili da crociera storm shadow da parte di regno unito francia e italia oltre al già famoso sistema di difesa senti questo missile da crociera è assolutamente efficace essendo stealth e questo si combina poi al volo a bassissima quota che lo rendono imprendibile e con capacità di penetrare anche i bunker sotterranei a un raggio di circa 300 chilometri nel frattempo i russi secondo fonti ucraine ma questo è stato anche previsto da tutti gli osservatori internazionali stanno concentrando una grossa offensiva almeno in preparazione nella zona a est del fronte dove hanno maggiori possibilità di mandare rinforzi diretti verso la città di borova in un tentativo che va avanti da un anno ci si aspetta di vedere un intensificarsi delle azioni nei prossimi giorni proprio in quest'area almeno se parliamo di campagna estiva ma appunto nel frattempo l'esercito ucraino ha rinforzato l'area quindi vedremo cosa accadrà come ho accennato anche nel mio video precedente ci sono alcune indiscrezioni sulla preparazione dei piloti ucraini da parte del governo di kiev continua a chiedere di addestrare un centinaio di piloti per l'utilizzo degli f16 che avranno a disposizione entro la fine dell'anno saranno una ventina quindi non è molto chiaro come stanno le cose realmente come ho già accennato da parte del governo britannico e degli stati uniti c'è la volontà di formare i piloti ucraini a degli standard occidentali che non sono propri del loro bagaglio di conoscenze attuali avendo tipica tipicamente una formazione al combattimento di tipo russo in ogni caso è verosimile che non abbia senso addestrare un centinaio di piloti quando gli aerei disponibili saranno realisticamente meno di una ventina e comunque immaginate di avere 100 piloti e pochi aerei significa che volerebbero poco e niente facendo rotazioni e questo non è l'ideale quando si parla di efficienza in battaglia resta comunque il problema di fondo logistico per gli f16 e qui rispondo anche ad alcuni commenti che a quanto pare la fanno troppo facile non è così ovviamente far volare gli f16 sul territorio ucraino significa avere una rete di specialisti pronti sulle basi e mezzi di supporto per l'impiego delle armi che l'f16 può portare non è una rete logistica che si può improvvisare soprattutto quando la devi costruire da zero al momento quindi non è chiaro quanto i russi siano pronti a colpire gli aerei quando saranno fermi al suolo per questo motivo le voci più realistiche dell'impiego operativo effettivo gli f16 sarà di una decina che come ho detto ampiamente nel video dedicato non si metteranno di certo a giocare a fare i top gun contro l'aviazione russa ma si dedicheranno principalmente a fare attacco al suolo per chiudere le notizie internazionali stendiamo un velo pietoso riguardo all'incontro fra putin e kim jong un dove è stato siglato un accordo per ricevere munizioni di artiglieria in cambio di cibo questa cosa la dice lunga il popolo nordcoreano muore di fame mentre il suo presidente ha la sua pizza pizzeria napoletana personale se non l'avete fatto vi invito a cercare qualche documentario di giornalisti francesi che sono riusciti a visitare la corea del nord ultimamente e a mostrare cosa accade lì dentro così per farvi un'idea della miseria e oppressione in cui vive quel popolo soprattutto le donne coreane dio mio se avete lo stomaco debole e siete sensibili a certi argomenti lasciate stare queste ricerche fidatevi delle mie parole andiamo avanti c'è una piccola ma importante novità tecnologica che arriva dagli stati uniti e che riguarda un nuovo sistema automatico per l'atterraggio supportaerei fino ad oggi almeno negli ultimi 107 anni a questa parte visto che il primo appontaggio è stato fatto nel 1917 i piloti imbarcati dovevano addestrarsi in un modo molto particolare l'appontaggio infatti è diverso da un atterraggio convenzionale il pilota della marina infatti doveva lavorare continuamente con la manetta quindi i giri motore e fare anche aggiustamenti con la cloche seguendo le luci degli indicatori di velocità a sinistra nel cockpit e le luci sul ponte della portere che appunto stavano a indicare se fosse troppo lento o veloce e troppo in alto o in basso rispetto al corretto sentiero di discesa quindi sostanzialmente il pilota doveva lavorare tanto di manico per restare all'interno dei parametri e far arrivare l'aereo sul ponte con la giusta angolazione per agganciarsi ai cavi il sistema tradizionale diventa molto critico quando il pilota commette degli errori se scende troppo la velocità richiesta sarà molto difficile per recuperare l'assetto lo stesso vale per un'eccessiva velocità insomma c'erano dei parametri molto rigidi a cui seguire qui che non permettevano errori le difficoltà di atterraggio poi si amplificavano ancora di più in condizioni di forte vento attraverso e mare mosso in generale una delle più importanti innovazioni in questo senso è stata con l'introduzione del plm acronimo che sta a indicare precision landing mode modalità di atterraggio di precisione in sostanza presentato come una certa novità in campo di aviazione questo nuovo sistema grazie alle migliori capacità di calcolo dei computer moderni combinato con i nuovi fly by wire permettono di controllare in automatico l'assetto di tutte le superfici di controllo compresi i flaps slats e il motore in generale in sostanza cosa cambia negli aeroplani tradizionali da sempre tipo dal primo aereo del flyer dei fratelli bright muovere in avanti e indietro la cloche comportava il movimento degli elevatori e quindi la variazione del pitch o angolo d'attacco mentre muovere la cloche a destra e sinistra comportava la rotazione sull'asse del rollio con il nuovo sistema plm in sostanza il computer di bordo fa da intermediario e agisce su tutte le superfici compreso il motore per dare al pilota la direzione e l'assetto desiderato cambiando così tutti i valori di portanza delle ali piuttosto che solo gli elevatori per esempio in questo modo a prescindere dal vento e dalle condizioni del mare il pilota avrà un sistema più semplice per appuntare non più facile ma più semplice così almeno è stato commentato dai piloti che hanno visto una soluzione più intuitiva al volo nelle condizioni di un appontaggio ma che comunque quando si parlerà di appuntare su navi che ballano su e giù a causa del mare agitato richiederà sempre una certa quantità di manico e con questo è quanto fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti e non dimenticate di lasciarmi un mi piace alla prossima